lunedì 6 novembre 2023 prende il via una settimana piuttosto scarna di indicazioni macro qui infatti l'unico dato anzi uno dei pochi dati di maggior interesse riguarderà l'inflazione in cina in uscita giovedì che attesa registrare questo mese una variazione negativa dopo la stagnazione evidenziata il mese precedente sempre dalla cina un altro dato di interesse invece sarà quello sulla bilancia commerciale in uscita domani martedì utile per avere una indicazione sullo stato di salute dell'economia globale in europa l'unico dato diciamo così di rilievo riguarderà invece la produzione industriale in germania in uscita domani per capire se i segnali di debolezza che abbiamo visto con gli indici pmi verranno confermati o meno per quanto riguarda la maggiore economia dell'eurozona vista un po la scarsità dei dati questa settimana l'attenzione dei mercati probabilmente si rivolgerà soprattutto verso i numerosi discorsi dei banchieri centrali tra cui di segnalo i più importanti quello della presidente della bce cristilla garda e quello del governatore della fed jaron powell entrambi previsti nella giornata di giovedì qui alla luce delle ultime riunioni di politica monetaria che abbiamo visto il mercato un po si sta spostando sta si aspetta una un taglio dei tassi l'anno prossimo e quindi sarà interessante capire dalle loro parole dal loro intervento se queste attese verranno per così dire stemperate e confermata invece la linea emersa dalla dalle riunioni di tassi alti per un periodo di tempo più lunga considerato anche più lungo considerato anche che l'inflazione si ovviamente sta scendendo e l'abbiamo visto anche nell'eurozona nei giorni scorsi mai comunque ancora appunto lontana comunque non ancora a livello del 2 per cento infine sguardo anche al fronte societario perché qui la stagione delle trimestrali sta giungendo un pochino al termine austritt quindi negli stati uniti ma proseguirà speditamente intensamente in europa soprattutto a piazza affari vi segnalo che saranno numerose le società quotate sul listino principale sul fuzzini che snoccioleranno i loro dati relativi al terzo trimestre dell'anno tra cui vi segnalo appunto banco bpm e nel poste italiane telecom italia quindi dei colossi che potrebbero muovere non solo i singoli titoli ma ovviamente anche l'intero listino milanese staremo a vedere ora però accogliamo l'ospite che ci accompagnerà sarà con noi in questa puntata angelo ciavarella professore della dell'università di greenwich buongiorno angelo bentornato ciao valeria buongiorno buongiorno a te buon inizio settimana e buon inizio settimana a tutte le persone che ci stanno seguendo questa mattina grazie angelo allora con te vorrei iniziare a fare un po il punto innanzitutto sulle banche centrali in particolare sulla fed che c'è stata la riunione qualche giorno fa ma al di là della decisione che abbiamo ovviamente già già visto trarre quali conclusioni trarre dalle parole di jerome powell e anche alla luce degli ultimi dati macro comprese anche quelli del sul mercato del lavoro che sono usciti venerdì pomeriggio per capire un po l'evoluzione la possibile evoluzione della politica monetaria oltreoceano eh effettivamente ci sarà un altro taglio dei tassi entro la fine eh un altro aumento rialzo dei tassi entro la fine del duemila e ventitré ci sarà si parla già di un taglio dei tassi nel duemila e ventiquattro cosa aspettarsi ma allora iniziamo col dire che la settimana scorsa è stata una di quelle settimane che verrà ricordata negli annali di borsa non tanto per il mercato equiti che balzato comunque migliore settimana per l'SP dal dell'anno con una crescita di oltre sei punti percentuale migliore settimana del Nasdaq dal duemila da ottobre duemila ventidue senza parlare del Russell duemila l'indice di piccole e medie imprese quotate in America migliore settimana addirittura da giugno duemila venti sulla base di cosa allora in realtà più che l'equity come sempre chi guida il mercato è il mercato sono i bond eh quello che è successo in realtà settimana scorsa è più che altro non è successo ossia i mercati hanno interpretato la il meeting della fede di mercoledì molto eh dovisce nel senso che eh eh Powell ha ha riconfermato quello che eh ci si aspettava ossia che al momento non sono previsti nuovi rialzi seppure ha lasciato la porta aperta a un ulteriore rialzo i mercati in realtà hanno iniziato a a credere a un bleffa di di Powell eh della e della Fed che così come male avevano interpretato l'inflazione transitoria nel duemila ventuno male questa volta secondo i mercati fanno a dire che manderanno i tassi alti a lungo ed infatti i mercati hanno iniziato a riprezzare la possibilità di un taglio anticipato si esclude totalmente un rialzo dei tassi i fed fans eh watch al momento danno solo il dieci per cento di possibilità di rialzo a dicembre di fatto non c'è rialzo eh e quindi già mercoledì c'è stato un repricing da parte del mercato della possibilità di taglio dei tassi anticipati venerdì sulla scorta dei non farm però l'usciti più deboli del previsto centocinquantamila nuovi posti di lavoro verso i centottantamila attesi al mercato questo ha fatto eh in qualche modo ha sostenuto l'ipotesi di un taglio a a a riavvicinato perché con con l'economia che sta iniziando a rallentare eh con 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 idea con i posti di lavoro che non farm è uno dei primi indicatori il mercato praticamente settimana scorsa ha fatto una cosa soltanto ha prezzato la prima di tutto un taglio dei tassi da parte della fed a giugno da parte della BCE addirittura ad aprile e sempre in estate da parte della banca centrale inglese fin qua non non è che sarebbe cambiato tanto in realtà quello che è stato il ma grandissimo market driver è che i mercati hanno prezzato prezzano in questo momento la possibilità di un taglio dei tassi l'anno prossimo di cento punti base in Europa cento punti base in America settanta punti base in Inghilterra tradotto in soldoni vuol dire che questo real questo taglio di hanno aggiunto a trentasei punti base di eh taglio delle altre quaranta punti base di ulteriore taglio nel duemilaventiquattro questo ha ha comportato un repricing di tutte le asset class in particolare oltre che tanto il il equity secondo me il grande diciamo la prima pagina dovrebbe essere dedicata ai bond in dieci anni il dieci anni americano ha perso cinquanta punti base in due settimane tra le altre cose ha perso trentasei punti base in tre giorni il più grande movimento ribasso dei rendimenti del decennale americano che ricordiamo è il benchmark un po' dei mercati mondiali eh meno trentasei punti base non accadeva da dodici anni se escludiamo il covid il tlt che è il eh l'etf eh che si basa sui bond di lunga scadenza americana non soltanto ha avuto la migliore salita dei tre giorni da ottobre duemilaventidue ma attenzione il più alto volume di scambi nella sua storia questo cosa ha comportato i bond quindi sottostanti dei rendimenti sono volati letteralmente a tre quattro punti percentuale di salita il dollaro chiaramente crollato sulla scorta dei eh del ribasso dei rendimenti dei bond americani seconda peggiore settimana del dollaro nel duemilaventitré e chiaramente questo ha comportato un eh volo un balzo dei mercati equiti in particolare modo delle la tecnologia che è molto sensitiva ai tassi di interesse e delle piccole e medie società che lo sono ancora di più questo in soldoni quello che è successo settimana scorsa. Bene hai fatto quindi un quadro molto ampio Angelo ehm per riassumere quindi anche sul per quanto riguarda la BCE taglio dei tassi nel duemilaventiquattro anche qui le attese sono ehm in quella direzione eh ma volevo chiederti diciamo una una valutazione una considerazione anche sulle eh sui segnali che abbiamo ehm ricevuto dal fronte macro perché l'inflazione l'abbiamo vista eh è sui minimi da due anni quindi la traiettoria della discesa è ormai eh invoccata qui forse il vero rischio Angelo si sta spostando sul fronte del del PIL quindi della forza dell'attività economica con questo rischio recessione che è forse più concreto in Europa oppure no? Ma no assolutamente sì eh la secondo le stime della Commissione Europea il PIL eh almeno in Germania dovrebbe essere negativo quindi parliamo di recessione in Germania nel duemilaventitré invece Italia e Francia dovrebbero fare meglio dovrebbero crescere ma comunque un po' le stime sono tutte riviste a ribasso da parte della Commissione Europea relativamente al al PIL europeo questo cosa comporta come ha appena accennato un ribasso un taglio dei tassi in Europa dovrebbe venire prima questa volta rispetto all'America proprio perché per far fronte a un'economia più debole rispetto a quella eh americana che comunque viaggia ancora 4.9 su base annuale l'ultimo readings di conseguenza mentre in America dovrebbero tagliare i tassi a giugno barra luglio in Europa secondo le stime eh secondo il mercato almeno eh dei bond dovrebbero avre il primo taglio dei tassi dovrebbe arrivare addirittura ad aprile bene bene ehm Angelo andiamo a vedere questi mercati perché poi nel frattempo eh mentre ci delineavi un po' il quadro e riassumivi la situazione sono arrivate già alcune domande per te allora iniziamo a vederle insieme la prima ehm chiede buongiorno Valeria può chiedere alla professora Ciavarella come vede il settore bancario europeo e in particolare quello italiano al momento le banche europee hanno sovra performato le banche americane ci può spiegare la motivazione? Gran bella domanda gran bella domanda allora eh iniziamo col dire che eh fino alla prima metà dell'anno quindi eh fino a giugno barra luglio eh l'Italia aveva sì sovra performato i competitors europei a livello di borsa ma più o meno insomma non di tanto adesso invece se andiamo a vedere la performance del nostro Fuzzi Mib rispetto al Dax c'è praticamente l'abbiamo doppiati finalmente lo dico con grande soddisfazione Italia sta sovra performando tutti i grandi listini europei sia la Germania che fa solo più nove da inizio anno e anche il K40 che era volato prima fino all'estate spinto dal lusso da in particolar modo da il grande del lusso di tutti Louis Vuitton, NSI, Moschendon, tra le altre cose era diventata in estate la più grande società a capitalizzazione Europa arrivando a 500 miliardi, è crollata, adesso sta sui 3,70, 3,80, scalzata in maniera forzata da Novo Nordisk, la prima società europea per capitalizzazione che poi conoscono la farmaceutica danese che insomma vola sulle ali del del farmaco per ridurre l'obesità quindi detto questo superato Germania superata Francia l'Italia sta sovra performando come giustamente ha sottolineato il telespettatore il grande il grande merito vale banche al settore banca d'Italia Italia è composta fondamentalmente da banche insurance company qualche industriale eh i big da energia Eni ed Enel. Ora perché? Due le motivazioni che stanno alla base della sovra performance delle banche italiane un po' europee in generale rispetto alle americane. Prima di tutto partimo da price earnings molto più bassi rispetto agli americani mentre gli americani comunque avevano veleggiato bene gli anni precedenti anche sui mercati perché? Perché le grandi banche americane sono anche banche sono investment banks quindi sono banche d'affari che eh diciamo fanno buona parte dei loro utili grazie anche alla a margin acquisition trading eccetera. L'Italia le banche italiane ma in generale l'europea a parte qualcuna Deutsche Bank, BNP Paribas, Sogen, Santander hanno poco di questo business sono molto più conservatrici e quindi hanno accusato. Quindi prima di tutto eh il un price earnings molto più basso che ha penalizzato per anni settore bancario europeo dove ricordiamo i tassi erano addirittura negativi quindi ancora peggio rispetto all'America dove erano a zero. Secondo, modello di business diverso, le banche americane sono un modello più universale quindi c'era anche molta investment banking e trading che non c'è praticamente o comunque molto poco in in Europa. Terzo, tassi, tassi che eh hanno da meno zero cinque sono volati in Europa un'economia in particolare quella italiana che sta tenendo un po' meglio delle attese e di conseguenza eh gli utili delle banche eh eh italiane in particolare stanno andando molto bene grande a merito anche devo dire ai me al manager che stanno facendo molto bene e secondo me per adesso questo eh gap potrebbe rimanere ancora intatto chiaramente molto dipenderà dall'andamento dei dell'economia in particolar modo italiana ed europea. Se dovesse rallentare l'economia le banche italiane inevitabilmente accuseranno perché inizieranno ad aumentare la delinquency rate eh quindi eh inizieranno ad avere un po' di non performing loan e questo potrebbe pesare. Ma per adesso penso che il gap possa continuare a rimanere inalterato. Angelo rimaniamo sui mercati azionari perché eh anche qui eh cerchiamo di capire appunto alla luce della performance che abbiamo visto finora eh ci dicevi una piazza affari eh migliore rispetto a un DAX a un CAC 40 quindi che ha brillato in in Europa potrebbe ehm essere così anche in quest'ultimo scorcio dell'anno effettivamente rimanere su questa su questa lina d'onda? Ma secondo me sì eh consideriamo che eh l'Italia come detto segna quasi più ventuno eh il caccaran del DAX che erano come detto praticamente in scia all'Italia fino a giugno barra luglio eh segnano rispettivamente l'otto e novanto il caccaran del nove il DAX. Chi sta tenendo un po' meglio in Europa è eh la Spagna con l'Ibex intorno al 13% ma chiaramente poi c'è va molto bene Atene ma insomma lì è un discorso a parte una borsa molto piccola spinta dal nuovo governo quindi secondo me eh anche questi dieci punti qua abbondanti di differenza di performance tra Italia e i big europei Germania e Francia in primi secondo me continuerà a persistere fino alla fine dell'anno anche perché come detto eh l'Italia in generale le società italiane eh la borsa italiana ha performato sempre molto male negli ultimi anni rispetto ai competitors europei adesso i mercati stanno vedendo l'Italia come stabile tra le altre cose con questo governo di fatto non è stato non è almeno fino adesso un governo populista ma è diciamo sta mantenendo molto un po' l'andamento del governo precedente non sta cambiando granché secondo me a livello economico non sta spaventando i mercati non stanno facendo manovre troppo azzardate quindi secondo me questo sta ci sta particolarmente premiando giustamente e penso che con l'andare dei prossimi mesi l'Italia comunque chiuderà meglio delle piazze altre piazze europee mantenendo questo gap se non addirittura aumentandolo nel prossimi mesi ricordiamo che poi c'è dicembre il classico rally di Natale che per il momento non dovrebbe essere interrotto a meno chiaramente di cambiamenti soprattutto geopolitici angelo altra domanda chiedono su quali settori punteresti da qui ai prossimi mesi la domanda allora ehm se andiamo a vedere un pochino l'andamento dei settori eh generali eh chiamando l'Italia eh purtroppo molti settori non sono adeguatamente rappresentati pensiamo al tech pensiamo al communication services che sono i settori che hanno fatto in assoluto meglio quest'anno in particolar modo in America eh anche farmaceutici insomma abbiamo poco tra le altre cose eh forse pochi sanno che è in asso che è vero che il settore tech ha trainato i mercati negli ultimi decenni ma il vero settore eh principe di Wall Street non è il tech ma rimane ancora l'health care che ha fatto performance enormi chiaramente nasce anche da più tempo secondo me il settore l'anno prossimo io sarò un pochino più sui difensivi e allora il settore peggiore quest'anno ma ovviamente è stato quello delle utilities con i tassi così elevati le utilities hanno sofferto particolarmente secondo me io continuerei sempre allora dato su tutti dato per anche per dare un'idea di quello di cui stiamo parlando il dieci per cento dieci azioni anzi delle quotate a Wall Street eh eh con Bonk sono pesano circa il trentacinque per cento della capitalizzazione totale della borsa queste dieci azioni hanno praticamente fatto oltre il novanta per cento del ritorno più tredici per cento dell'SP500 quindi c'è la concentrazione di performance azionaria sui big quindi eh le sette eh diciamo magnificent seven di Wall Street che hanno trainato il listino secondo me alcune di queste inizieranno a rallentare Apple secondo me in primo piano sarà quella che da adesso a me non piace più riportare i dati che non mi sono piaciuti quattro trimestre di fila in discesa quindi eh di revenue quindi meno secondo me tech il real estate eh potrebbe recuperare nel momento in cui dovesse arrivare iniziare arrivare il taglio dei tassi il settore farmaceutico è un difensivo per eccellenza quindi nel caso in cui parliamo io parlo mi sposto già nella Q1 Q2 2024 perché ormai cambierà poco da partire dell'anno eh quindi punterei sui farmaceutici punterei sempre su communication services eh però in maniera un pochino meno aggressiva tech soltanto durante le discese eh comprei comunque un po' di eh financials in caso di correzione questa è un pochino diciamo il gli ingredienti secondo me per affrontare l'anno prossimo secondo me uno dei mercati può fare bene sono quelli dei bond ricordiamo che al netto di questa settimana i bond e particolarmente quelli americani stavano per chiudere anche il duemila ventitré negativo storicamente non è mai accaduto mai accaduto che i bond americani chiudessero tre anni di fila con il segno meno tra parentesi l'anno scorso hanno perso oltre quindici punti percentuali global bond questo per dire che non è vero che i bond non scendono anzi tutt'altro diteglielo a chi ha comprato il BTP a marzo. A proposito di questo Angelo domani ci sarà l'emissione del bond a targato Cdp a sei anni che prevede eh l'abbiamo l'abbiamo visto per i primi tre anni un rendimento del cinque per cento e poi variabile. Quali considerazioni fare di fronte a questa a questa emissione? Potrebbe essere interessante però un investitore? Allora io sono io da vedere adesso in questi stand quando rende il decennale nostro quattro e cinque quindi Cdp è praticamente rischio semi zero diciamo in qualche modo no? Quindi a rischio bassissimo mi sembra un buon eh una buona cedola su tre anni poi chiaramente si slega quello che diciamo là il fisso per andare sul variabile mi sembra un buon investimento sempre da non esagerare però loccare un cinque per cento a questi prezzi a tre anni ehm me non sembra sbagliato tra altre cose nel percorso eh del professore che è chiamato così sulla chat e telegram dove eh faccio analisi quotidiane eh per le persone che mi seguono sui mercati eh ho iniziato a prospettare l'acquisto di bond quando il nostro decennale arriva da quattro e otto quattro e nove stessa cosa per il decennale americano secondo me loccare da due tre anni questi prezzi e questi rendimenti mi sembra un buon prendere sempre senza esagerare di conseguenza questo di CDP mi sembra un buon strumento non ho mai consigliato a chi mi segue lo sa bene il BTP fino all'ultima emissione e così mi sento di consigliare anche questa volta il CDP a 5% mi sembra un buon prendere. Bene altra domanda per te Angelo andiamo a vederle insieme eh sempre sui mercati azionari chiedono visto che il terzo anno del ciclo presidenziale prevede rialzo da qui al prossimo marzo dove pensa possa arrivare l'indice S&P 500? Ma sono delle domande interessanti preparatissime persone che ci seguono ma questa è una domanda chiaramente non milioni di dollari no? Eh difficile dire la mia view eh personalmente è che l'indice possa spingersi sui massimi dell'anno a chiusura duemilaventitré eh però sono scettico sull'anno prossimo eh diciamo ma io farei una sovrapposizione di bond rispetto a equity una delle poche volte diciamo in cui esplongo in questo modo perché penso che l'economia c'è adesso il mantra qual è? Bad news quindi l'arralendamento economico eh in qualche modo rappresentato dai non farm per Olsa settimana scorsa che usciti sono usciti peggio delle attese quindi bad news macroeconomico significa good news lato stocks perché perché i mercati iniziano a scontare un taglio dei tassi preventivo che se è buona se è buono nel breve eh non è tanto buono nel medio o lungo perché a un certo punto la good news la bad news economica sarà bad news per le stocks perché se adesso i mercati salgono sulla scia eh del taglio prematuro dei tassi che con poche porta quindi ottimismo dall'altro lato se dovesse veramente arrivare un taglio ulteriormente eh non previsto dagli analisti al momento quindi eh dovrebbe arrivare prima addirittura di giugno aprile maggio addirittura eh marzo vorrebbe dire che l'economia americana sta tirando il freno a mano e non sta rallentando come le attese di conseguente a quel punto le bad news eh macroeconomiche saranno bad news per l'azionario quindi eh io penso che l'anno prossimo queste performance eh soprattutto in America ma anche secondo me in Europa ce le dimentichiamo a doppia cifra dappertutto con Nasdaq addirittura più trenta spindo da artificial intelligence occhio tra altre cose il ventuno novembre arriva i dati dell'ultima magnificent seven che mancano forse la più importante anzi la più importante che è invidia che è la capostipite dell'artificial intelligence perché al momento eh grande buona parte del mercato americano è salita sulla scorta dell'artificial intelligence la domanda corretta secondo me sarebbe è prezzata adeguatamente il settore artificial intelligence oppure eh inizia a diventare troppo costoso ecco secondo me questa domanda importante anche per il settore tech che di fatto ha guidato il listino eh una concentrazione su sette azioni come adesso raramente è capitato la cosiddetta bref il mercato sta venendo a mancare tutta concentrazione performance in sette barra dieci titoli non aiuta secondo me in generale il mercato azionario eh secondo me quindi l'SP potrebbe potrà continuare se ci sarà una settimana di consolidamento se non mettono a questi prezzi tra i 4.3 4.4 poi potrebbe esserci rottura di 4.400 e a estensioni fino a 4.5 4.5 e cinquanta questo potrebbe essere la view da qua fine anno eh al netto di eh aumenti il rischio geopolitico di estensione escalation del conflitto che avrebbe evidentemente effetti negativi anche perché al momento il rischio geopolitico non è assolutamente prezzato dal mercato basta avere il petrolio che sta a ottantuno dollari molto più basso rispetto all'inizio della guerra l'anno prossimo invece parte gennaio che potrebbe essere un mese forte storicamente il mese uno dei mesi migliori poi prevede un po' di debolezza da lì eh in avanti fino almeno alla primavera. Angelo a proposito di ehm di ultimi movimenti che abbiamo osservato nel corso della settimana abbiamo visto un oro chiudere sopra i 2000 dollari all'oncia quali considerazioni fare qui di fronte a questo movimento? È da acquistare? È da vendere? Che fare? Ma allora eh io come sempre solitamente raramente cioè prendo posizione però stavolta ho preso posizione un po' su diversi asset class considerando quello che è successo. Eh io personalmente la mia view chiaramente solo a titolo personale sono ribassista sul gold eh ho una posizione personalmente ribassista sul gold a uno nove nove cinque con stop non troppo lontano due venti ah mi aspetto una discesa del gold allora sicuramente il gold eh è stato aiutato anzi è l'unico asset che è volato per un riprezzo da un ripricing del rischio il gold era mille otto e venti ha messo sul dieci per cento in due settimane e mezzo da quando è scoppiata la guerra ovviamente il gold scendeva come era giusto che fosse con i tassi al cinque per cento quindi dei rendimenti al cinque per cento decennale non vedo perché si debba mantenere il gold che non rende niente non diciamo non stacca dividendi non ha cedole è una non yielding asset quindi un mondo di rendimenti che ci sono dappertutto non ha senso mandare il gold in mano la salita del gold il dieci per cento è stata dovuta esclusivamente appunto al rischio geopolitico ehm è singolare che la settimana scorsa dove il gold è crollato dove il dollaro è crollato solitamente il gold eh dovrebbe eh prendere e recipire positivamente a discesa del dollaro il gold ha fatto il gold ha fatto spallucce e anzi a questa settimana già sta scendendo io sono quindi per concludere ribassista sul gold al netto chiaramente anche qua di escalation geopolitiche se là il conflitto dovesse rimanere in qualche modo circoscritto a a Israele eh eh a massa non dicono anche la palestina ma a massa eh penso che il gold possa iniziare a perdere terreno viceversa questo poi chiaramente non si può sapere se dovesse allargarsi a Libano anche soltanto senza magari arrivare all'Iran ma gli Hezbollah a quel punto il gold sicuramente eh spungerebbe da ulteriore parafulmine geopolitico. Chiaro chiarissimo Angelo eh siamo agli ultimi minuti ma è arrivata un'altra domanda quindi la vediamo eh chiedono invece per quanto riguarda la Cina vista la politica di easing quantitativo della Cina eh pensi che possa essere interessante investirci visti anche i livelli raggiunti? Che domanda ragazzi ovviamente è super. Eh queste domande mi fanno meglio spesso. Allora sulla Cina è un po' complesso abbiamo poco tempo però al volo eh molti investitori stanno guardando di maniera un poco eh diciamo felice l'andamento della Cina. Io sono un po' controcorrente eh e comunque la seconda economia più grande al mondo ha subito nelle discese dovute sia a dei crackdown politici sia chiaramente al mercato immobiliare che accusato Soros lo diceva da tre quattro anni tra le altre cose che sarebbe sceso. Eh la mia view personalmente sul mercato cinese è un po' controcorrente. Io sono favorevole a soprattutto ai big della dei tech e parlo di Alibaba che è uno dei miei preferiti. In Cina penso che Alibaba apprezza per fare un confronto con Amazon tipo dieci quundici volte meno i price earnings quindi non sento secondo me non sento questi prezzi dei big cinesi c'è il rischio geopolitico c'è la correzione eh economica lo stimolo cinese non è del governo non è ancora eh molto significativo ma secondo me dopo questo bagno che sono presi io sarei investitore in Cina attento in particolar modo alle big tech che fa numeri pazzeschi e sono assolutamente sottoprezzate. Possono rimanere per molto tempo sì ma secondo me prima o poi gli investitori si renderanno conto delle opportunità almeno alcuni settori che la eh la borsa cinese offre. Bene Angelo grazie mille abbiamo risposto a tutte le domande il tempo a nostra disposizione è volato letteralmente quindi Angelo ti ringrazio per essere stato con noi oggi a Weekly Bell grazie per il tuo tempo. Grazie grazie Valeria grazie a te grazie a WeWealth e grazie ovviamente a tutte le persone che hanno avuto diciamo il tempo per seguirci e per dedicarci un po' del loro tempo in questa mattina. Grazie e buon inizio di settimana a tutti. E io ovviamente non mi resta che anche da parte mia ringraziarvi salutarvi augurandovi una buonissima settimana e un buon lunedì ci vediamo con Weekly Bell lunedì prossimo sempre alle 8 e 30. A presto.